Testa a spalla baby, one, two, three, testa a spalla baby, one, two, three, testa a spalla, testa a spalla, testa a spalla baby, one, two, three, three, collo, collo, collo baby, one, two, three, collo, collo, testa a spalla, vabbè insomma questo è d'altro, lo potrete vedere domenica 6 agosto alle ore 21 e 15, non lo sapeva. Al porto turistico l'arena è statica a Pescara, vi aspettiamo per farvi vedere innanzitutto se sappiamo farlo tutto intero e bene, il numero testa a spalla classico, un classico della tv anni 60 e poi? E poi con Pino Insegno racconteremo quella televisione in bianco e nero che probabilmente oggi ci manca un po', era quella televisione che metteva d'accordo tutti, magari un papà, una mamma, una nonna, un bambino, tutti davanti al televisore a ridere, scherzare e guardare un bel programma. Oggi è tutto un po' più distratto. Pino Insegno è attore, doppiatore, presentatore, amico nostro e sarà un piacere invitarvi all'arena del porto turistico dove per la prima volta finalmente si può anche cenare sotto le stelle, sotto le stelle cadenti perché ormai stiamo vicino alla notte. E cerca di resistere un po' a questo caldo, torrido, maledetto, però insomma noi dobbiamo sopravvivere e quindi perché non farlo con dei ricordi magici di una televisione che ha ancora tantissimo da raccontare perché ci rendiamo conto che anche sui giovanissimi sono tutte cose molto divertenti, sono dei numeri che ancora hanno un senso. Beh, concludi con la sigla invece di un programma storico, come faceva? Ma che... Musica, che musica, che musica maestro, questa bella sinfonia tutto il mondo canterà e allora vai, vai, vai! No, allora vieni, vieni, vieni! Il 6 agosto al porto turistico vi aspettiamo Pino Insegno, Federico Berrotta e la parte bella dello spettacolo Valentina Holla. Grazie a tutti!